Per favore facciamo tutto quello che dobbiamo fare e non scendiamo a compromessi, perché io personalmente come tifoso della Juventus da 30 anni a questa parte non mi sento sicuro nel momento in cui giustizia non viene fatta. Non riesco a pensare al campo, a tifare sul campo nel momento in cui so che se vinco troppo potrebbe arrivare qualcuno e inventarsi una storiella che mi penalizza e mi fa finire in classifica come vogliono loro. Buongiorno Juventini e mi corazon, aio noi, nel vostro Andrea Stecalma da New York, come sempre, oggi mi sono preso un paio di giorni di pausa, subito dopo la partita a caldo non ce la facevo signori, non ce la facevo perché io provo, provo, ovviamente è difficile, non ci riesco sempre, ma provo a presentarmi sempre con il sorriso, provo a presentarmi sempre con una ragione per essere ottimisti e positivi, invece questa volta non ce la facevo. Quindi mi sono preso un paio di giorni di pausa, adesso eccomi qua anche perché oggi sono stato ospite dagli amici di Juventus come tutti i martedì con Super Trump, Virginia, saluto tutti quanti come sempre e diciamo che dai, parlarne è un po' fa bene, è un po' da terapia come quando vado dal buon Raffo di Juve Mi, che anche lui saluto e ringrazio come sempre per tutte le ospitate. Comunque detto questo, la situazione signori probabilmente è la più bassa, la peggior situazione in cui la Juve si trova da quando io personalmente la tifo, e perché dico non riesco a trovare lati positivi? Perché da una parte abbiamo la distruzione, la disperazione, lo sgretolamento delle ultime cose buone che erano rimaste all'interno dello spogliatoio e della squadra, dall'altra parte hai una società che da molti viene criticata perché non sta facendo abbastanza per difendersi, non sta facendo abbastanza per farsi rispettare e soprattutto per contrastare tutti questi attacchi che arrivano non soltanto dalla giustizia sportiva che, lo sappiamo, ha la possibilità di fare esattamente quello che vuole, come vuole e quando vuole, ma anche a livello mediatico. Adesso la critica di tanti tifosi è esattamente questa, io dico sono in stand by, non voglio portare una critica da questo punto di vista ma non riesco a dire neanche qualcosa di positivo perché capisco quelli che si lamentano di non avere una difesa vera e propria, forte e presente sui social, comunque che si faccia sentire a livello di opinione pubblica, visto che ritorna sempre l'argomento dell'opinione pubblica, il sentimento popolare e visto che queste sono le strategie, i mezzi che utilizzano per rendere valida tutta l'accusa che fanno nei nostri confronti. In stand by ancora io non mi esprimo perché voglio aspettare di vedere quello che sarà la fine dei giochi da questo punto di vista e non sto parlando ovviamente della fine del campionato tra due partite ma sto parlando di tutto quello che succederà dopo giugno, che non mi ricordo esattamente se era il 15 giugno, dopo il giorno in cui verrà fatto il processo del secondo filone per quello che riguarda gli stipendi. Voglio vedere come effettivamente la Juventus reagirà e si difenderà in questo caso perché quello che ci hanno promesso è di difendersi fino alla fine con ogni mezzo possibile immaginabile. Quindi io aspetto questo, io mi aspetto questo, io mi aspetto che qualsiasi sia leader processuale noi andiamo e cerchiamo di fare giustizia una volta per tutte. Perché poi cominciano tutti gli altri discorsi che non riguardano appunto la situazione fuori dal campo ma riguardano quelli che sono i nostri problemi all'interno. Io lo so signori, stai calma, io passo come l'allegriano convinto che io, ve l'ho detto più di una volta, io rifiuto sempre qualsiasi nomignolo che non sia Gobbo o Juventino. Questi due li accetto e sento che mi riconoscono. Tutti gli altri allegriani, allegriani, sarristi, non sarristi, ve li lascio fare a voi questi giochi, io non c'entro niente. Io sono tifoso della mia squadra, supporter dei miei, dei giocatori della mia squadra, dello staff del presidente, tutti quelli che la compongono finché ne fanno parte. Quindi va al di là del rispetto e la stima che posso avere per Massimiliano Allegri. Se voi mi aveste chiesto prima della partita di Monza, prima della penalizzazione eccetera, io vi avrei detto che era giusto che Allegri si facesse da parte. Non tanto per quello che ha dimostrato sul campo, quanto per tutto quello che era l'atmosfera che si era creata principalmente da noi tifosi della Juve che eravamo già divisi all'inizio dell'anno e poi anche sui media dove chi parla di Allegri non ne parla come un allenatore che fa questa professione da diversi anni e anche ottenendo buoni risultati, ma ne parla come il male del calcio che fa tutto il contrario di quello che andrebbe fatto e tutto il contrario di quello che farebbe del bene al movimento calcio. Quindi abbiamo tolto a quest'uomo a prescindere il beneficio del dubbio. Già da quel giorno, da quel prepartita, io ero d'accordo che l'atmosfera non era sana e non era quello il momento giusto per far tornare o per far restare Allegri alla Juventus. Detto questo, è successo quello che è successo. Abbiamo visto gli ultimi sei mesi quello che sono stati e quello che la giustizia, la federazione, la Lega, chi vi pare è riuscita a farci vivere oltre a quello che erano le nostre disavventure sportive. Quindi mi dispiace che non possiamo dare effettivamente un giudizio lucido, un giudizio chiaro su quello che è stata la prestazione e dei ragazzi in campo e dell'allenatore in panchina. Perché purtroppo quello che era tutta l'atmosfera intorno, quello che erano le vicissitudini, le vicende giudiziarie, hanno avuto da dire. Avete sentito Mourinho essere molto empatico nei confronti di Allegri e dei giocatori della Juventus? Perché appunto questo, onestamente a livello intellettuale, si mette al posto dei ragazzi e ammette che questo è stato un campionato totalmente falsato. Non sto dicendo che il Napoli non meritava di vincere, non sto dicendo che il Napoli non ha giocato un calcio bellissimo, non sto dicendo niente di tutto questo, sto dicendo che da quando io seguo il calcio, questo per colpa appunto della Lega, della Procura eccetera, è il campionato più falsato che abbiamo mai visto. Quindi mi dispiace ma un giudizio lucido e effettivo non lo possiamo dare. Adesso dobbiamo ricominciare da qualche parte? Certo, ricominciamo facendo una rivoluzione, ricominciamo cambiando l'allenatore, cambiando tutti i giocatori che non valgono la maglia della Juventus. Che cosa sto cercando di dire? Che a livello tecnico non siamo all'altezza, né la maggior parte dei giocatori che abbiamo in squadra. A livello di motivazioni e di spirito e di carattere, dal mio punto di vista, per come immagino un giocatore vestire la maglia della Juventus, non siamo ancora all'altezza. Quindi io penso che il ripulisti vada fatto a prescindere un po' in tutta la rosa e non soltanto nell'allenatore. Anche se sento persone che dopo la partita con l'Empoli sono venute con il solito Allegri Out, il solito hashtag che dovrebbe portarci la soluzione a tutti i problemi. Novità, ultima notizia della giornata, non è purtroppo questa la soluzione a tutti i nostri problemi, signori. Quindi ripulisti generale, però detto questo io non riesco a concentrarmi particolarmente su quello che dovremmo fare per ricostruire una squadra che ritornerà a vincere. Perché dico questo? Perché sono ancora in stand-by sul giudizio che do alla Juventus, su quello che la Juventus sta facendo per difendersi. Sto in stand-by e non so quello che spero di più. Non so se la mia speranza è più focalizzata su quello che faremo per ricostruire o su quello che faremo per difenderci da tutte queste ingiustizie. Perché nel momento in cui ricostruiamo una squadra vincente e ricominciamo a vincere campionato dopo campionato, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sperare di non vincere troppo perché se no potrebbe venire fuori un qualche procuratore con una mezza intercettazione accusarci di aver tirato una carta per strada, aver inquinato l'ambiente, non lo so. Arriveranno dei punti di penalizzazione anche per quel motivo. Io personalmente pensavo che Calciopoli non si sarebbe più ripetuta e grazie a questo pensiero, a questa consapevolezza, a questa speranza ho potuto convivere con l'amarezza di un'ingiustizia che non è mai stata vendicata. Adesso mi state togliendo questa speranza nel momento in cui non difendete la Juventus. Quindi per favore facciamo tutto quello che dobbiamo fare e non scendiamo a compromessi perché io personalmente come tifoso della Juventus da trent'anni a questa parte non mi sento sicuro nel momento in cui giustizia non viene fatta. Non riesco a pensare al campo, a rifare sul campo nel momento in cui so che se vinco troppo potrebbe arrivare qualcuno e inventarsi una storiella che mi penalizza e mi fa finire in classifica come vogliono loro. Io voglio sapere quali sono le regole del gioco prima di cominciare a giocare. Se la Lega di Serie A non mi dà questa possibilità non sono interessato al suo prodotto. Lo capite questo. Detto questo finiamo questo video che sta andando come al solito per le lunghe e non sta portando un briciolo di positività come avrei voluto fare e come voglio fare tutte le volte. Quindi signori forza Juventus fino alla fine cerchiamo di stare uniti per quello che possiamo perché comunque sgretolata la squadra, sgretolata la società, sgretolati e anche tifosi, sfortunatamente. Ma questo potrebbe essere un modo per ripartire alla grande, per ricostruire qualcosa di veramente grande e di veramente buono. Signori, io vi lascio con le solite tre regole. Stay fresh, stay crispy e stay calma. Ciao belli!